il video di oggi consiste in una riparazione di un televisore questo è il televisore è un televisore di penso 15 forse 20 anni fa della nikkei dovrebbe essere un 19 pollici il problema è che dopo pochi istanti il lo schermo si spegne per cui andiamo a vedere il problema io ho già tolto tutte le viti vedete sono abbastanza ho tolto già il piedistallo e il coperchio ecco si può notare che questo condensatore si è gonfiato parecchio proverò a sostituirlo perché penso che sia proprio la causa del guasto per sostituirlo bisogna smontare la scheda madre e togliere tutti questi cablaggi per prima cosa si sfilano i due cavi flessibili che erano collegati alla parte posteriore si sfilano semplicemente ora andrò a togliere questo cavo e questi sfilano questi per togliere questa scheda è molto semplice basta togliere tutte le viti a stella che ci sono e poi sfilari vari cavetti tipo questi questo sono tutti i cavetti che c'erano collegati mantenendo l'ordine prestabilito qua c'erano delle viti adesso questa scheda la scheda madre si può togliere e poi di conseguenza possiamo andare a togliere il condensatore guasto guardando meglio i condensatori pare che siano stati sostituiti già in precedenza io vedo dalla colla a caldo ma volendo potrei sostituirli tutte e due credo che siano due condensatori in parallelo ora vi mostro le proprietà dei condensatori che ho tolto che sono da buttare questo è quello che si era gonfiato andiamo a vedere una esr di 4 ohm v loss 8,8 per cento il valore capacità è completamente sbagliato 671 nano farad contro una capacità indicata di 2200 micro farad un valore completamente sbagliato vediamo ora l'altra capacità allora il condensatore che sembrava essere buono in realtà è in perdita 9 per cento di v loss esr 0,86 ho sostituito i condensatori elettrolitici che probabilmente davano più problemi e sono esattamente tre e ho preferito mettere una tensione di lavoro massima più alta anziché 25 volt ho voluto mettere 50 volt poi ho ripulito le saldature sotto la scheda con alcol e un pennello questo punto rimonto la scheda madre sul televisore